bello combinato c'era il fratellino che l'ho messo proprio peggio amore, non è niente, stai attento che è morta Tami perché ancora è la prima volta che hanno un contatto umano piccolino, non succede niente, pulizia che occhietti ciocci, ciocci, ciocci speriamo che questo ce l'hai, questo occhietto eccolo qua, che bello no, sei buono con quei dentini affilati che Tamara poi si deve prendere l'antibiotico nel caso se intenta quel dito Tamara lo vedo troppo ecco vicino alla bocca ora chiudo il video così vai io da meglio grazie